Siamo per partire, poi si smobilita. È l'ultimo Art Duel di questa stagione, la quinta puntata. Io sosterrò l'immagine, credo che Luca porterà la parola, parola e immagine. Sarà un bel duello, che sia l'ultimo lo dovrete decidere voi. È stato un degno avversario. Abbiamo raccontato l'arte contemporanea attraverso questa inedita formula del duello. Willy Montini, preparatissimo, colto, abile. Gli basterà? Non lo so. È vero, parleremo di immagine contro parola. E poi anche di due modi in fondo diversi di intendere l'arte che in questa trasmissione sono sembrati davvero complementari. Ma ci deve essere un vincitore. Penso che dovrò vincere io. Anche un po' per doveri di ospitalità, parliamoci chiaro. Grazie a tutti.